Da mercoledì 9 marzo in Lombardia, sulla piattaforma apposita della regione per la prenotazione dei vaccini anti-Covid, sarà possibile prenotare la quarta dose booster per i cittadini particolarmente fragili, ovvero con marcata compromissione del sistema immunitario, che abbiano già ricevuto la terza dose addizionale da almeno 4 mesi, dunque 120 giorni. Così come indicato dal commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, il primo marzo anche in Lombardia è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore ai 12 anni, sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria, persone per le quali la quarta dose booster è fortemente raccomandata. La platea riguarda circa 150.000 lombardi e di questi 25.000 sono ad oggi vaccinabili, perché hanno già completato il ciclo primario da almeno 120 giorni. I pazienti possono così ricevere la dose booster nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già ricevuto la dose addizionale. In questo caso saranno le aziende sanitarie stesse a verificare chi è in possesso delle condizioni necessarie per essere sottoposto alla somministrazione della quarta dose e a provvedere alla chiamata diretta. Potranno ricevere la quarta dose anche recandosi presso uno dei centri vaccinali attivi sul territorio regionale in accesso diretto senza prenotazione e appunto da mercoledì 9 marzo anche prenotandosi attraverso la piattaforma online.